Allora, è stato un grandissimo privilegio avere qui tante persone esperte, appassionate e che portavano contributi alla comprensione dei problemi con cui lavoriamo regolarmente. Sì, prima di invitarvi a pranzo, che mi sembra la cosa più urgente, volevo dire due cose. Grazie, che stasera faremo così una discussione, presenteremo il nostro libro della precedente giornata di studi e spero che soprattutto discuteremo un po' di Certissima Signa, che è il nostro sito. È prezioso avere Kristen per questo, perché è una grande esperta, ci aiuterà e anche che speriamo che la prossima giornata, credo questa volta forse torneremo a un manoscritto, già abbiamo un'idea, che i nostri contributi mediamente sono di veramente così buon livello che noi vogliamo pubblicarli. Cominciamo a darci una scadenza fin d'ora, perché in queste cose le scadenze sono forse un dato molto importante. Per ora metteremo come scadenza la fine di aprile per tutti voi. Andiamo a pranzo? Grazie. Grazie. Grazie.